Benvenuti al nostro nuovo videogiornale. Solennità di Santa Chiara. La comunità diocesana ha festeggiato con grande spirito di devozione la solennità di Santa Chiara. Alla vigilia della festa, i primi vespri e la Santa Messa sono stati presieduti dal Vescovo Domenico nella Basilica dedicata alla Santa. Inserata nel santuario di San Damiano, si è tenuta la veglia di preghiera nel transito di Santa Chiara. Nel giorno della solennità, padre Marco Moroni, custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, ha celebrato la Santa Messa conventuale nella Basilica di Santa Chiara. Il cardinale Mauro Gambetti, vicario generale di sua santità per la città del Vaticano e arciprete della Basilica di San Pietro, ha presieduto la Santa Messa solenne, concelebrata dal Vescovo Domenico e animata dal coro dei cantori di Assisi. Erano presenti le autorità civili e militari, il clero diocesano e tanti fedeli venuti per rendere omaggio alla Santa, patrona della televisione e delle telecomunicazioni. La celebrazione è proseguita con l'offerta dei doni da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Nel pomeriggio, i secondi vespri e la Santa Messa nel transito di Santa Chiara, sono stati presieduti da padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna. Solennità di San Rufino Per la solennità del patrono di Assisi e della diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, le celebrazioni in cattedrale sono iniziate mercoledì 11 agosto con la veglia di preghiera, la processione e la benedizione della città da parte del padre Vescovo. Mercoledì 12 agosto, giorno della solennità, il Vescovo Domenico ha presieduto la concelebrazione solenne. La Santa Messa, concelebrata dal vicario generale Jean-Claude Azumet e dal parroco Don Cesare Provenzi, priore della cattedrale di San Rufino e vicario episcopale per l'economia, è stata allietata dalla cappella musicale di San Rufino. Presenti il clero diocesano, le autorità civili e militari e i tanti fedeli accorsi per rendere omaggio al santo patrono di Assisi e della diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino. La celebrazione è proseguita con l'offerta dei doni da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti. In serata si è tenuto il concerto in onore del santo patrono a cura della cappella musicale di San Rufino. Solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria Domenica 15 agosto, in occasione della solennità dell'assunta, il padre Vescovo ha presieduto la recita del Santo Rosario nello spazio esterno della chiesa di Santa Maria Maggiore Santuario della Spogliazione. Durante la preghiera il Vescovo Domenico si è soffermato sui tre segni che caratterizzano il cristiano per tenere unita la chiesa e precisamente la Santa Eucaristia, Maria e l'unità con il Papa. Don Germano Mancini è tornato alla casa del padre. Domenica 15 agosto, solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria, è tornato alla casa del padre Don Germano Mancini, sacerdote diocesano, titolare da anni della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Nocera Scalo. Don Mancini era nato il 15 novembre del 1933 a Laverino, frazione di Fiuminata, in provincia di Macerata. Ordinato sacerdote il 29 giugno del 57, dopo aver frequentato il seminario di Nocera e quello regionale di Assisi, Don Mancini ha dedicato la sua vita, oltre al servizio presbiterale, anche alla scuola, insegnando prima lezioni di francese presso l'istituto privato del seminario di Nocera e poi religione in diverse scuole pubbliche di Foligno, compresi alcuni licei. Non è mancato nel cammino umano, spirituale e pastorale, il servizio nei confronti dei giovani, tanti campi scuola, estivi e di lavoro, da lui stessi organizzati e seguiti. Importante è il suo impegno nel post-sisma nel 1997, per la ricostruzione totale della chiesa di Nocera Scalo, completamente distrutta dal terremoto e la tenuta sociale di tutta la zona, a cui è rimasto sempre legato fino alle ultime ore di vita. Fondamentale nel percorso di Don Mancini la passione per il giornalismo, in particolare al settimanale diocesano La Gazzetta di Foligno, che ha diretto dal 1976 al 2009. La cerimonia funebre si è tenuta martedì 17 agosto nella sua chiesa di Nocera Scalo ed è stata presieduta dal Vescovo Domenico alla presenza dei confratelli diocesani. A Sigillo sono stati restaurati gli affreschi della chiesa di Santa Maria Assunta. Giovedì 12 agosto, nel pomeriggio, si è svolta la presentazione del restauro degli affreschi conservati nella chiesa di Santa Maria Assunta di Villa Circa, a Sigillo, che sono stati restituiti al loro antico splendore grazie alla generosità di privati cittadini e del Lions Club di Gualdo Tadino. Due dei cinque affreschi restaurati della Flebere Restauri SNC di Carla Bassetti e Patrizia Tega di Gualdo Tadino, e cioè quello raffigurante Santa Anna, Maria e il Bambino Gesù e quello raffigurante la Madonna della Misericordia, sono pregevolissime opere di Matteo da Gualdo, che si firma Matteus de Pinxit su Banno Domini 1400. Gli altri affreschi sono di pittori ignoti del XV e del XVII secolo. Grande soddisfazione è stata espressa dal parroco Don Ferdinando dell'Aquila per la conclusione del progetto di restauro. Vi ricordiamo di inviarci i vostri contributi video o anche solo immagini da tutte le parrocchie e realtà della diocesi, scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 339 388 4342. Vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci al prossimo videogiornale.